Buonasera a tutti i cittadini di Catania, vi devo dare una notizia, ho sentito il terremoto di qualche 4 secondi e ho avuto un po' di paura perché ero caricato a letto, l'ho sentito abbastanza forte e quindi fortunatamente è finito per quei 4 secondi la prima volta che ho sentito il terremoto, non l'avevo mai sentito in vita mia, l'ho sentito per la prima volta abbastanza forte e vi devo dire la verità mi sono spaventato.